Sicuramente va privilegiato l'investimento di lungo periodo, sia in termini di normative di sostegno agli investitori, di facilità di accesso a questa tipologia di investimento e anche dal punto di vista fiscale, l'arriva fiscale è sicuramente una linea importante per incentivare un investimento di questo genere. Ma devo dire che l'ho vissuto purtroppo non pienamente da tutti e tre giorni, però l'ho visto molto partecipato, vedo il fermento sia negli espositori e soprattutto va dato adeguato a chi ha organizzato e ha imposto alcune tematiche, compresa queste sono impatti investimenti estremamente importanti di strategia. Grazie a tutti!